Ora, dei 200 progetti che ci sono arrivati, purtroppo solo 137 sono cantierabili, cioè ovviamente noi abbiamo dovuto fare una selezione, il Dipe, il dottor Sepe che ringrazio molto per il lavoro che è stato fatto con tutta la sua struttura, ha fatto una selezione molto importante, anche io ero qui a Palazzo Chigi quando abbiamo fatto questo lavoro col Cipe e col Dipe, abbiamo fatto in modo di selezionare appaltabilità e cantierabilità, chi aveva appaltabilità e cantierabilità, cioè chi era pronto a partire, da oggi può partire, anzi deve partire alla svelta, questo è il messaggio, quindi sblocchiamo questi 200 milioni di euro perché i 137 interventi cantierabili sono tutti accolti, quindi quello che aveva detto il Presidente del Consiglio, mandateci le lettere, se avete i progetti pronti vi libereremo dal patto di stabilità, punto 1, e vi faremo immediatamente partire, punto 2, vi finanzieremo immediatamente per le piccole opere, entrambe le condizioni che erano state promesse ai comuni sono state rispettate, quindi con questa nostra assegnazione di oggi noi diamo conto appunto di tutte le richieste che avevano le caratteristiche di appaltabilità e di cantierabilità.